Diciamo taglio eventuale. Parliamo di decine di milioni di euro perché bisogna fare il calcolo anche su tutti i deputati che oggi percepiscono la pensione, invece col nostro sistema recepirebbero solo dei contributi che dovrebbero trasferire al proprio sistema previdenziale nazionale. Questo farebbe risparmiare molto in relazione al fatto che un deputato dopo il 63esimo anno di età inizia a percepire una pensione che è alta e non è su base contributiva, quindi non c'è nessun contributo che va a riempire quel vaso che va poi dopo a dare le pensioni ai deputati.